Entro il 2019 Onna sarà ricostruita, lo ha annunciato il sindaco Massimo Cialente. Nel bellissimo borgo distrutto dal terremoto del 2009 stanno per partire i lavori dei primi tre aggregati, Pronti Fondi. Aggregati che si trovano vicino la chiesa di San Pietro Apostolo, ricostruita dalla Germania. Poi partiranno i lavori di altri due aggregati, poco distanti ma sempre al centro del paese. La situazione sta migliorando, finalmente abbiamo fiducia nel futuro. Stanno partendo già i primi tre aggregati proprio qui intorno alla chiesa, più altri due un po' più distanti ma partiranno. Quindi la ricostruzione sta ripartendo, ci sono le basi perché Onna venga ricostruita tutta. Certo che a vederla oggi Onna sembra essere rimasta ferma sei anni fa. Nel borgo un tempo bellissimo, macerie e tutto è ancora zona rossa. Sei anni, un tempo che sembra lontano, ma oggi finalmente gli onnesi hanno fiducia e sperano di vedere davvero entro tre anni il loro paese completamente ricostruito. I mappi allora cederanno il passo a case vere e forse si potrà immaginare un futuro, fatto anche di giovani e sogni. C'è ancora molto da fare, però l'importante è aver iniziato perché per sei anni noi non avevamo nessun tipo di sicurezza che iniziasse la ricostruzione. E questo della chiesa è stato anche un punto importante perché non si può lasciare la chiesa sola senza ricostruire. Quindi questo è stato anche probabilmente uno stimolo a che si facesse qualcosa di serio per le frazioni fra cui Onna. Adesso fino all'anno scorso eravamo ancora con il terrore di non poterle ricostruire. Adesso invece abbiamo speranza nel futuro, quindi sicuramente le cose andranno meglio.